Resti! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Resisti! Ancora un minuto! Resisti! Sta arrivando la marca! Resisti! Chiedi duro! Chiedi duro! Stanno arrivando! Francesco! Niente grappato! Arrivalo! Sta arrivando la caviteria! Arrivalo! Stai grappato! Ancora un po'! Resisti! Resisti Francesco! Sono a pochi metri! Ancora un po'! Resisti! Sono qua! Pochi minuti Francesco! Ancora un poco! Sono a 300 metri da te! Resisti ancora! Tieni di grappato! Non mollare ora! Non mollare ora! Quintaées! 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 Quinta Pasqua! Quintaées! Quintaqué? Quintaiesce! Quintaiesce! Grazie a tutti. 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 Cerchiamo di tirarci più indietro e di non occupare questa parte della spiaggia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.